Si è conclusa nel migliore dei modi l'esperienza della pavese Andrea Urda alla trasmissione televisiva Detto Fatto. La studentessa che frequenta la quinta moda dell'Ipsia Luigi Cremona ha vinto la finalissima del concorso tra i giovani talenti che sognano di diventare stilisti e ha ottenuto una borsa di studio per l'Accademia della Moda di Milano. Andrea ha ideato il suo abito prendendo spunto dal tema Eurovision 2022, giocando con le diversità dei tessuti, dei materiali e dei colori. La giovane ha poi festeggiato la vittoria con i suoi docenti e i compagni di classe. Sicuramente anche le difficoltà sono perse, difficoltà che hanno consentito però di andare avanti con tenacia e la tenacia, la pericacia, hanno dimostrato che la buona volontà viene sempre premiata alla fine perché credo che con la vittoria tutte le difficoltà precedenti siano state azzerate abbondantemente e la soddisfazione sia decisamente superiore. Io ti faccio i miei complimenti, quello di tutta la scuola perché è anche merito delle docenti che ti hanno supportato in questo percorso quinquennale aver conseguito questo successo. Spero che la tua attività professionale prosegua con il massimo interesse, con la massima soddisfazione e questo dimostra che anche i sogni si possono realizzare. Assolutamente. Ancora complimenti. Grazie di qua.